Sì, siamo a Piatto, quindi oggi parlerò del FEDiverso, che cos'è il FED che il NARU dovrebbe farne parte. Quindi che cos'è il FEDiverso? Il FEDiverso, che è un'unione di due parole di un FEDiverso federato, è una rete di social network indipendenti che sono basati sul protocollo activity pub, che è uno standard del World Wide Web Consortium per la creazione e la federazione di contenuti, anche se il FEDiverso può comprendere anche altri protocolli diversi. A differenza dei social più tradizionali, i social del FEDiverso sono decentralizzati, perciò non sono o soltanto un server o una serie di server gestiti da una sola spenda, ma sono entità chiusa, fino a se stessa, ma sono più server, ci ho detto spesso anche istanze, che sono gestiti da vari individui o gruppi sparsi per il mondo. E questi social non sono isolati, ma comunicano fra di loro, ecco perché si chiamano federati, grazie al protocollo apti pub che hanno in comune, che quindi gli permette di poter essere interoperabili. Questo si può paragonare al funzionamento delle email, per esempio, della vostra elettronica, per cui io anche se sto su Gmail posso mandare email a chi sta su Outlook, libero o quello che è. Quindi questo ci permette di avere delle platform che non sono sotto il controllo di una singola azienda che vuole lucrare in maniera spropositata sui nostri dati, inviando la nostra privacy, manipolandoci l'amento, quello che è. Poi tutti i software che stanno dietro a dei diversi sono liberi open source, quindi questo ci posta i soliti vantaggi che tutti ne conosciamo, oltre alla presenza dei vari software che cambiano e migliorano il funzionamento dei progetti originali. E fra tutti i vari software sono diversi, ognuno per i propri casi d'uso, tipo microblogging, foto, video, musica, ecc. Questo adesso è un esempio di come funziona. Abbiamo questi 3 server abilitati dal cliente web, ognuno con il proprio dominio. Bellino.social, che ho molta fantasia con i nomi, minxuser.com e massager.com. Quindi abbiamo questi 3 server che hanno dei utenti. In questo caso c'è per esempio Mario, che è registrato su bellino.social, John Do, su minxuser.com e massager.com. E i server comunicano fra di loro. Quindi questo significa che Mario, per esempio, può andare sul suo browser, sul suo sito, cioè nel senso sul suo social, bellino.social, e vedere il profilo di John Do che sta su quell'altro server, quindi senza dover neanche lasciare il dominio del proprio server. E da lì può interagire, quindi può mettere mi piace, commentare, seguire, ecc. e quindi, visto che stiamo parlando di server diversi, similmente alla posta elettronica, come ho spiegato prima, per potersi trovare nella rete federata bisogna specificare anche il dominio. Quindi, per esempio, se io voglio cercare una persona, oltre al suo nome ho bisogno anche del dominio. Quindi, chioccio la maro, chioccio l'abbellino, tutto social. E quindi mi permette di trovarlo se io sto su un server diverso. Poi chioccio la John Do, chioccio la brunostradi.it, ecc. E qui c'ho anche delle screenshot di Massodon dove c'è il mio profilo, quindi c'è il mio nome, chioccio la massodon.1 che è sempre sul paleto che sono registrato. Poi una notifica di questo qua che mi ha cominciato a seguire, quindi sal1h chioccio la massodon.social perché viene con il server. E sotto una screenshot della ricerca, per cui posso cercare facilmente il profilo di un altro che sta su un altro dominio, appunto. Quando un utente può bloccare un altro, gli amministratori del server possono scegliere di bloccare la federazione con un server che non approvano, perché magari pubblica cose inappropriate, cose che possono essere pericolose, insomma. E questo è detta anche federazione. Per cui, ad esempio, gli amministratori di Bellino.social hanno deciso che brunostradi.it conteneva post profili che non aderivano alle loro regole, che avevano insomma, hanno qualcosa che non va, perciò hanno deciso di bloccare la federazione. Perciò chi sta su bellino.social non può vedere o interagire con ciò che sta su brunostradi inutenti e viceversa. Poi, visto che non è una rete federata, decentralizzata, se un server va giù per un guasto, una manutenzione o quello che è, tutti gli altri continuano a funzionare tranquillamente, visto che non esiste un nodo centrale. Quindi, per esempio, qua uno stradutti ha un problema tecnico e non funziona, intanto gli altri possono comunicare tra di loro comunque. Ma poi, anche se il server è giù, probabilmente sta in cache sui altri server, quindi certi posti e certi problemi si possono comunque vedere. Come se viene impannato da un server, non sei impannato dall'intero sistema, può comunque scegliere di registrarti su un altro server. Infatti, qua vediamo che uno è stato bannato, però va sull'altro server e si registra e quindi non è completamente riempitato via dall'intera quattro curma. Oggi ci sono alcuni software, che è diverso come Massolon e Pincept, che permettono di migrare parzialmente o completamente il proprio account da un server ad un altro, il che è utile se il tuo server ha deciso di chiudere o se per qualche modo ti piace o poi viene gestito o il tipo di di persone che stanno là. Insomma, per caso di motivo c'è comunque questa possibilità. Quella è una screenshot della documentazione di Massolon che appunto parla della migrazione di account. Quindi adesso vediamo un po' nel dettaglio di Massolon. Quindi Massolon è il software per il diverso più usato ed è per il micro-blocking, quindi mi somiglia molto a Twitter nel modo che si usa. Permette di poter postare il testo fino a 500 caratteri, permette di postare media, altri allegati, sondaggi, emoji personalizzate e filtri per i contenuti sensibili, di contenuti. Si usa principalmente la browser però anche delle app ufficiali per ancora di iOS disponibili anche su WebDroid. Poi ci sono anche molte app di terze parti che includono più funzionalità come pay, lab, taschi, eccetera. Poi sul Massolon esistono tre feed, la home, il feed locale e il feed federato. La home è semplicemente il feed dei profili che segui, quindi io seguo qualcuno e vedeci i posti diversamente. Quel feed locale, che è detto anche feed dal vivo, mostra i posti più recenti di tutti quelli che sono registrati sul mio stesso server. Quindi se io sto per esempio su un server pubblico, dove ci sono molte altre persone, su questo feed posso vedere tutto ciò che possano. Poi c'è il feed federato, che è detto anche Esplora, che contiene anche post di persone che stanno su altri server, ma che gli amministratori del mio server hanno approvato per poter essere mostrati appunto su questo feed. Poi tra le altre funzionalità di script di Massolon abbiamo per esempio le liste che permette di separare e categorizzare il feed. Quindi posso fare una lista per un tipo di account specifico, per esempio una lista per gli account che possano notizie, una lista per gli artisti, eccetera. poi le menzioni private, per cui ci può scambiare dei posti privati, che sono come dei messaggi privati in cui si specifica la menzione a chi è indirizzato questo messaggio, però chiaramente questo è comunque visibile agli amministratori del server. Poi la verifica, che permette di avere una spunta verde, una spunta di verifica tramite un link da mettere sul proprio sito web, in modo da poter verificare che l'account è genuino. Poi gli hashtag in evidenza, per cui posso impostare degli hashtag sul mio profilo, quindi chi cerca un hashtag specifico, per esempio hashtag Binx, io ce l'ho sul mio profilo e quindi questo mi permette di poter essere trovato tra i profili quando si cerca proprio quei hashtag in particolare. E poi la cancellazione automatica dei posti, in base ad un tempo che è stabilito, che si può impostare. Poi Maslow non è solo uno dei vari software per il micro-blocking, per il micro-blocking su Periverso. E se non ci piace per qualche motivo, oppure se non vogliamo farne una monocultura, essendo appunto il più usato, un'altra cosa, l'ho visto che è tipo per un 70%, secondo le statistiche di tutti i software che è diverso. Esistono anche altri software dello stesso scopo, per esempio i vari fork di Maslow come Gritchsoft o con Tam, oppure per Roma o i fork come Accomore Pased, Minsky con i fork come Pyfish o Panky, oppure addirittura il plugin di ActivePub per Wordpress che permette di rendere degli articoli di un sito Wordpress come se fossero dei post per ActivePub, quindi visibili dagli altri social. Poi un altro importante software per il più diverso è Xerted, che è dedicato interamente alle foto e somiglia molto ad Instagram nei suoi primi anni. Quindi permette di impostare 15 foto in un solo post, creare collezioni, archiviare post, pubblicare storie, un po' come Instagram moderno, e poi anche delle impostazioni per cui uno può anche disattivare tipo il contatore dei commenti dei mi piace oppure per disattivare la storia, visto che a molta gente queste cose non piacciono. C'è una ufficiale per Android iOS anche se è ancora in beta, quindi però viene sviluppata comunque molto velocemente e spesso risolvano i bug. E ci sono comunque diverse altezze. Poi Xerted ha anche lui i tre feed, quei tre tipi di feed, però ha anche una sezione chiamata Explora che è molto particolare visto che mostra i post di tendenza e anche dei collegamenti per gli hashtag che si seguono alle storie passate, statistiche, eccetera. Poi anche qui c'è il concetto di messaggio privato anche se è strutturato più come una chat, piuttosto anche come un post privato. Poi GearTube è un altro software che è dedicato al video sharing, allo streaming, quindi è molto simile a YouTube e permette di avere un account con più canali per poterlo caricare video dirette, mentre mi piace o non mi piace, commentare, creare playlist, iscriversi a canali e persino importare sul proprio canale video dal proprio canale YouTube oppure da un torrent. Poi è progettato per essere efficiente sui server grazie ad un modello Gear2peer, perché comunque GearTube nasce prima di ActivityHub, mi pare che è nato nel 2015, per cui aveva già dall'inizio questa funzione, per cui GearTube rende sia gli utenti che i server di altri come contributori per la banda, in modo da non far servire un video interamente al server. Quindi questo rende molto più efficienti gli stream. Ufficialmente solamente l'interfaccia web, che può essere usata come una progressiva web app sul telefono, oppure direttamente da un browser, però esistono anche diverse app terze, tra cui anche il rispetto Newbyte. Ah, Newsflash. Hanno annunciato da poco che, quindi fra una sorta di organizzazione non-profit che sviluppa GearTube, hanno annunciato da poco e volevano iniziare a sviluppare un'applicazione ufficiale per Android e iOS di GearTube. Poi perché amministrano con server Pintube ci sono molte comunità come un sistema di plugin per poter cambiare le funzionalità, un sistema di temi, il transcoding dei video a varie risoluzioni, il supporto a web RTC e le relazioni manuali. Poi Homecast è un altro software che permette di fare dirette in stile Twitch, con diversi bitrate, con una chat per i più spettatori, emoji personalizzati, notifiche di quando si fa in diretta e integrazione con Discord per le notifiche di quando si fa in diretta, oppure con Amazon S3 per l'objet storage. E anche questo è solamente web, però può funzionare con diverse app terze. Poi questa è un'esperienza personale per cui io avevo avuto problemi a fare dirette con Peertube su diversi server anche. Una serie di impostazioni con l'accelerazione della GPU che però su Homecast mi funzionava molto meglio. Quindi, qualcuno di voi ha esperienza con Peertube, con lo streaming? Assolutamente, vabbè. Poi Landy è un software per community e thread, quindi molto simile a Twitter e a Netflix. Permette di poter aggregare link a media, mettere a post, a vote, commentare, formatare il testo, inserire immagini, unirsi a varie community. Questo anche può essere solo ufficialmente l'interfaccia web, però ha un po' diverse app terze anche molto complete. Tra cui Eternity, che è un fork di un app che prima era un app per Reddit, però dopo i cambiamenti all'API hanno deciso di fare il fork e di rendere un app per Lemmy. Comunque, tutti questi software, anche se sono tutti diversi, parlano la stessa lingua, appunto, sono basati sullo stesso protocollo per cui io posso, per esempio, vedere un post di Pixelpad o un video di Peertube da Mastodon o Pleron, posso vedere un trend di Lemmy o KBin da Prendita o di Ascora, posso vedere un articolo di WordPress o web corretti su mischili, social, eccetera. Quindi, più o meno, posso vedere qualsiasi post ActivityPub su qualsiasi server ActivityPub, cioè non importa più di tanto su quale software gira su questo server, appunto per l'interoperabilità portata dal protocollo. E' abbastanza vasto visto che ci sono molti altri software che vanno anche al di fuori dei social o al di fuori del protocollo ActivityPub, per esempio Nextcloud, una funzione di generazione delle ride tra persone di diversi server, oppure Anquil che è un'alternativa a SoundCloud dove si può caricare la musica, tra i fili che è un blocco personale, tipo Wordpress, il plugin di nuovo di ActivityPub per Wordpress che permette di rendere gli articoli parte di un feed a TTPPub che può essere seguito da altre persone. Poi Matrix e NTPP che sono protocolli di chat che supportano nativamente la cittatura in to-end, oppure il protocollo library che è video scenico per il blogging distribuito, quindi basato più o meno sulla tecnologia blockchain e diverse altre cose. Quindi, ora il mio sales pitch finale, perché Nalu dovrebbe restare sul tre diverso? Perché per un'associazione come nostra, che è una nostra che promuove software libero open source, non può mancare una presenza sul tre diverso. Ci sono anche dati recenti risvolti con Ix e Reddit che hanno fatto conoscere queste alternative a molte persone, tra cui aziende anche come Neta, Tumblr e Flipboard che hanno deciso di adottare ActivityPub. Infatti è molto recente la notizia che Rezora che è arrivato in Europa sta finciando ad aprire la federazione. Poi comunque dobbiamo farlo anche per il fatto che abbiamo già una presenza sulle piattaforme proprietarie e questo ci permetterebbe anche di poter far conoscere a chi ci segue sulle piattaforme proprietarie le piattaforme libere, oltre a farci conoscere a chi sta già sulle piattaforme libere. In questo modo quindi non dovremo costringere le persone ad usare queste piattaforme proprietarie se volessimo, cioè se loro vogliono seguirci, vogliono entrare in contatto con loro in qualche maniera. Poi appunto questo ci può dare più libertà visto che specialmente se andiamo a postare un server nostro ci permetterà di poter postare essenzialmente quello che vogliamo senza stare alle regole di vacunato come la decederazione o la scarsa risposta alle segnalazioni che sono problemi difficili ai server più grandi. Quindi la mia proposta è quella di creare un server Mastodon o di un altro software di microclocking su un DPS dove potremo creare un occhio account per poter pubblicare aggiornamenti, eventi, riunioni o per poter rispondere alle persone che ci contattano. Poi un giorno sarebbe interessante anche poter stare in server Kirtube o un cast per i nostri video e le nostre dirette anche se quello già vedo un po' più difficile visto che per il transposing e tutte queste cose ci vogliono molte risorse anche per la banda. Ho addirittura anche un server Matrix per le nostre conversazioni come diciamo alternativa a Telegram. Qui potete trovare diverse risorse in inglese per poter sapere di più di più di più diverso con guide, domande risposte, statistiche e diverse cose. E qua sono i siti ufficiali per tutti i sociali che ho menzionato per farlo. E volete fare la cosa? Ah, questo lì. E niente, io ho finito. Grazie. 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 Per quanto riguarda il servizio del Mastodon, DPS, dato che le istanze della materia di cash anche i posti di altre istanze, quale sarebbe il costo con riguarda... Allora, questo nello specifico non lo so, visto che io Mastodon non l'ho mai ostato, magari avevo intenzione di ostarmi una cosa, non Mastodon però un'altra cosa, più per conto mio, magari per fare delle prove anche. Quindi penso che ci sia comunque un po' di flessibilità nelle impostazioni della cache, per cui potremmo limitare un problema del genere. Anche se poi dipende comunque con chi federiamo, se andiamo a contattare tipo dal server Mastodon del NAVU, andiamo a vedere il profilo di uno, quindi il server comincia a crescere. Quindi, secondo me, anche quello bisogna anche controllare. E' sempre molto interessante stare dicendo le distanze del NAVU, perché da quello che ho detto, il nostro conto inizia come database, imparare un po' di diversi modi. Penso di sì. E' molto pesante, visto che lo spazio occupato, perché da questo viene una piaccia molto grande, quindi il costo poi, anche l'amministratore di Mastodon. Sì, per questo ho detto che se non vogliamo Mastodon ci sono comunque le alternative, che sono comunque compatibili. Iniziate con Mastodon, Mastodon? No, non parlavo di Mastodon, ma parlavo degli altri, tipo Mischief, Pleron, o le robe là. Per quanto riguarda, cioè, volendo stare qualcosa di più leggero, magari cominciare a fare Mastodon per le distruzioni, almeno è migliore, che sarebbe meno. Teoricamente sì, anche se anche quello federà in una certa maniera, quindi vabbè dipende... Per esempio, in caccia di nero, quindi, comunque, come sarebbe un messaggio di gesto che il video porto... Sì, va bene, sì. Quello, aspetta, quello è il problema principale di Matrix, che il software del server principale si chiama Synapse, è scritto in Python, quindi un po'... Però comunque stanno lavorando a Dendrite, che è un'alternativa scritta in Go, mi pare, o in Mastodon, mi ricordo, che comunque dovrebbe essere più leggera e più veloce. Domanda così al volo, esiste qualcosa, cos'altro tipo di pub che permette di fare anche videochiamate? Ehm, no, ma non ne vedo tanto l'utilità, visto che ActivityPub è per postare cose, quindi per le chiamate... Cioè, nemmeno, per esempio, XMPP o Matrix usano i loro stessi protocolli per le chiamate. Ehm, se io mi volessi avvicinare per la prima volta un data, questo che è diverso, e vorrei creare un primo accanto di Mastodon, per esempio, qual è il server che puoi consigliarmi? Allora, consideravo che la città del server è un po' dedicata nel fatto che è spiegato che l'amministratore del server fa cura le polisi di federazione, quindi uno si può trovare a cambiare server con polisi molto diverse. Sì, sì, infatti, che è una scelta molto da moderare a un'opertura del server? È una scelta molto da moderare, non so dire nello specifico, però vabbè, io per gli O sono registrato su Mastodon.1 che è gestito da un gruppo che si chiama Devil, che comunque per ora io non ho mai trovato problemi, poi c'è un po' di drama riguardo Mastodon.1 ma non me ne sbatto altamente perché posso le mie cose, seguo chi se vuole, faccio quanti miei. E però comunque Mastodon.social è quello ufficiale. Eh sì, il server ufficiale, però, come ho detto, ci sono i server ufficiali, i server grandi, hanno problemi per cui, visto che hanno molte persone, ci sono la gestione nel generale, quindi recupero i bot, segnalare queste cose che possono essere problematiche, anche per il fatto di fenomeni come FediBlock, tipo le liste pubbliche di server da bloccare, che vengono messi nell'elenco così senza nessun motivo valido, quasi. Sì, sono un po' pubblico. Cioè, per cui uno può scegliere di adottare quella lista sul proprio server. Ok, ma io posso sapere, local, i miei server, quali, quale list, cioè, quale, chi ha un account? Certo. 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 Ci sono alcuni server che te lo dicono, però, dipende dai amministratori. Certo. Non è sicuro che sia lo spazio. Eh, non è sicuro, dipende dai amministratori, per esempio, Mastodon non lo fa. Certo. Perché una volta gliel'ho chiesto e mi hanno detto che era per ritare che poi qualcuno vada a vedere certe istanze e effettivamente, diciamo, finirebbe a sguazzare nella metta, così dire. Quindi, secondo loro, questo era il rischio. Comunque, ci sono liste di server pubblici. Io non ricordo l'altro, se posso sapere qualcosa. Ok, visto che questo non è il mio computer, ho paura di aprire le poste di qualcun altro. Certo. Io non ci sono. Non ci sono. Potendo si cancellare. Per sempre andiamo su. E' 10. Ok. Non ci sono. Ok. Non ci sono. Per il mio intervento è una ristretta che se non è un'istanza, se non l'ultima, se non gli investe in un'istanza, se non gli investe in un'intenzione, se non gli investe in un'istanza, se non gli investe in un'istanza. Non è così. Beh, non ci sono. ...e prendere una distanza dove è più piccola, perché ci sono le regole, le punti chiari che dovete andare inizio... ...e il servizio di sito... Quindi sì, qua per esempio c'è il sito di MassLogon dove ti invitano principalmente a descriverti al loro server ...e però ci sta anche il server che mostra una lista di diversi server pubblici. Una cosa interessante è la possibilità di poter creare dei server tematici. Sì, infatti ce ne sono. Cioè io creo un server da uno dove si parla di un argomento, un server altro dove si parla un altro argomento. Però questo chiaramente non ti limita a interagire tra altri argomenti con altre persone su altri server, quindi il limite non c'è. C'è una domanda, ma avevo visto i server da bloccare. Sì. Ma invece come funziona? Cioè come posso agganciarmi agli altri server del più diverso? Teoricamente sei alimentato la federazione per default, quindi quando uno ti cerca, cerca un profilo che sta sotto server già per una prima commissione. Che poi... Sì. Ci devi stare a quanto fa il punto centrale che fa. Oppure tu che magari cerchi qualcuno che sta su un altro e ti incominci a fare la commissione. No, no, ma tecnicamente come fanno a capire che... ci sono un'istanza del Maston. Ci sono un'istanza del Maston. E' perchè c'è il server che risponde, c'è comunque il software di Maston che gira e risponde alle connessioni intratte. Ok, allora facendo ripersonalista pubblica dei server. No, la lista 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 pubblica dei server. Perché quando ho ottenuto alla distanza, sì, quindi uno server, credo la connessione. Quella connessione che si propaga in tutti i server che sono collegati a su... Ah, ok, ok. Ricorda in qualche modo un sistema di hooting, se non c'è un letto bene che si aggiornano a mettere in state update. Quindi qua per esempio c'è una lista di server pubblica che sono stati, diciamo, approvati dall'organizzazione di Maston. Sono generalisti oppure tematici, si può scegliere categorie, oppure anche la lingua, mi pare, sì, la regione, l'Europa per esempio. Magari in centro a Europa e riguardo all'arte. Ok, per esempio ce ne sono questi due, che quindi appunto sono tematici. Poi ci sono i server che permettono di creare un account subito oppure quelli che richiedono un'approvazione manuale per cui tutti i registri e l'amministratore delle... Deve verificare che sei, diciamo, degno. Sì, perché appunto c'è tipo un campo di testo dove devi specificare perché vuoi iscriverti a quegli stati. Tutto chiaramente... Ehm... Una domanda. Ehm... A livello di encryption. Sia a livello di scambio dei blocchi attivi di Valco, sia a livello di dati concentrati sui server. Come siamo messi? Allora... 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 Sia appunto sui posti pubblici. Quindi... Cioè, oltre all'HTTPS, c'è roba che comunque è vista in chiaro, ma può essere che sarà chiunque. Poi a seconda delle impostazioni privacy del post che comunque è gestito da server, per cui tu fai richiesta al server per vedere quel post, però visto che è impostato come giugato allora ti dice no, non lo vuole vedere. Quindi comunque c'è una specie forte risposta per certe impostazioni dei post. Tra PDM poi, come dicevamo, non c'erano... Non sono veramente grittato. Non c'erano... Ehm... Non penso perché non ce n'è tanto bisogno, visto che... Ok, anche se sì. Cioè... Se uno vuole iscriversi in privato, si iscrive con una roba come una cosa. Sì, sì, sì. Già, secondo me ci sarà bisogno. Ehm... Invece gli ho letto di usare esperienze. Io, tipo, un annetto fa ci ho provato. Non è stato che niente semplice. Anche uscire da server a dire con altre cose. E poi appunto bruciarli. Vabbè, perché comunque è un concetto diverso. Quindi un minimo lo si dovrebbe studiare per poterlo capire meglio. E questa è una cosa che molte persone non fanno. Infatti ad uno dei primi esoti da Twitter, su master2.1, si registrava un sacco di gente che non capiva niente e offendeva gli amministratori a caso. Lo ricordo. Sicuramente. Le persone sono qui sono anche inclini a farlo. Ne comprese in generale. Però non è stato così semplice. Ho visto anche che è inizionata un'applicazione che si direbbe interfacciare in più protocolli. Iniziamo anche il console lab o il console lab. Ah, Fentylab no, non è per più protocolli eccetera. No, è lo stesso protocolli insomma. Sì, per più software non si riadatta che ha faccio a seconda di cosa. Come hai visto l'experience in quel caso? Cioè è cambiato qualcosa nell'ultimo anno? Penso che abbiano reso un po' più semplice l'onboarding come appunto il fatto che hanno messo direttamente un tasto anche sull'app join ma sono molto social per esempio qua. o anche sull'applicazione se prende così. Quindi comunque cercano di spingere verso le istanze più grandi diciamo per renderla più semplice anche se questo sconfige un po' il punto della decentralizzazione. Beh, che discorso devo dire che devo scegliere bene il server all'inizio? Eh, c'è anche una diversione però è super ok. Ecco, comunque è una scelta da fare però comunque se ti iscrivi per esempio alla cosa principale comunque è il modo di scegliere poi di migrare ad un altro server quando pensi che questo server non mi piace oppure voglio interagire con persone locali diverse. Oppure puoi stare su più server. Eh sì, comunque registrati su diversi account su più server anche ad un tipo alti se te ne cancellano uno c'è l'altro. Sì, io ne posso tenere sulla stessa app con i multi-account e quindi puoi passare da un account all'altro per compartmentalizzare un po' le tue reti sociali. Quindi ho un account accademico su un server di professori. Ho un account di chiacchiere che non so, tipo la blog, ne ho altri di specifici interessi. Tutti quanti punti sono diversi. Quindi non c'è un collegamento tra questi vari aspetti della tua identità che non necessariamente devono essere collegati. Cosa che invece non è possibile. Con i main points ti costruono a dire chi sei. Saranno pure fatti di chi. In questo caso che vuoi fare? Quindi parti da un server. Per la grande difficoltà, non lo so, se con il user experience non so, cosa in particolare è stato difficoltamente. A parte l'interfaccia che è diversa, perché sono più diversi, non ci stanno degli seguitudi, ma ci stanno pure nell'articolarità che non riesco lì. C'è un altro aspetto che è fondamentale. che qui non c'è un algoritmo che seleziona i contenuti e gli altri contatti, gli altri server. E' fatto manualmente con la pratica umana del condividersi le informazioni, di conoscersi, di presentarsi. Quindi una cosa che bisogna fare manualmente è scoprire la gente che ti interessa sulla base di tipicamente una pratica come fai una presentazione. quando non ti sono server, fai un post, il proletto con l'ashtag, con l'ashtag, con l'ashtag, con cui ti presenti e dici di che cosa ti interessi, di che cosa parlerai, o ti interessa così. E solitamente si dire, tu metti pure tu degli hash, così, ma chiedi pure, se c'è qualcuno, legge quel post, che ti può segnalare degli hash, oppure ci sono degli utenti che sono particolarmente attivi. Ci sono anche accanto dedicati proprio a consigliare gli utenti in base alle tematiche. Stanno iniziando a fare questo, perché questa è la cosa difficile, perché devi curare i tuoi argomenti, i tuoi following. Quindi, ti segui, e puoi anche seguire degli hashtag che hanno creato anche degli account che fanno da aggregatore, effettivamente. Quindi, tu puoi seguire un account che ti riposta cose che riguardano quell'argomento. Sì, sì, che sarà un server e totalmente trasparente, l'unica cosa che succede che se quel server è federato, dall'istanza su cui sta sempre, non lo vedi. Aggiungi l'utente da seguire sull'altro server, non è che ti viene vietato. Ah, ok. E' sulla timeline... E' sulla timeline federale. E' sulla timeline federale. E' non compare. Non compare. Non mi puoi fare le tweet, le tweet come si chiama? Le post. 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 Lepole verbete. Iniz Jude 11 e Twitter come sempre. I financial, e quindi io, adesso, controllando. Ma io, sto con gente che, sono su altre stanze di振興, ma io, cioè, non lo sapevo fino da adesso, , ovviamente. La volta che the vintras et like, ed è che tesi c'è già delle esperienze in theory, tipo Twitter prima, che diventasse tutto. non sono contorti, le persone non sono per seguire l'Aftag, quindi magari un po' di stessa segui l'Aftag sulla tua timeline locale, uscite tutti posti con quell'Aftag, oppure a seconda del plan entrai una serie apposta qui in Aftag, quindi per seguire l'Aftag per tutto il preferito, per le maschere o magari segui l'Aftag del 2.0, così caro, cioè. Se invece l'integrazione incontro, per esempio, da PXF, di quello che vi ho menzionato, magari tramite il FedRub, no, così non lo so, ok, va, questa è comunque semplice, comunque, io faccio queste domande, perché non conosco sicuramente, ma anche per dire quanto effettivamente è pronto questa cosa da proporre a altre persone che non abbiano troppa voglia di... Allora, FedRub in particolare è anche un po' pagata, quindi vabbè, diciamo perdere il fatto che è un po' pagata, prendiamo il concetto, un'App unica che può interagire con vari servizi attivi pub in maniera, diciamo, con l'interfaccia che è sempre, visto che appunto il funzionamento è simile, ci sono sempre le stesse basi, del post, tu puoi avere immagini, puoi avere testo, mi piace, riposta, commenta, quindi in generale l'interfaccia, più o meno è sempre la stessa, quindi non è tanto un trama, tu sai che hai cambiato account e l'interagisce comunque allo stesso modo, più o meno. Poi dipende perché appunto PeerTube è un po' diverso, anche se è compatibile con FedRub e ti cambia un po' l'interfaccia per accomodare, come se fosse quasi YouTube, quindi un player con sotto mi piace, così. Quindi nonostante ci siamo comunque cose diverse, più o meno ci sono similitudini appunto di rinatare al mondo. a base di trovo, dietro Mascon, c'è un'azienda? Non profit, c'è un'azienda e pianto. Si basato su donazioni o hanno un business model? No, penso su donazioni. Ok, ok. Potete avere una profitta di Mascon in tedesco? Si. Qua. grande patch da personalizzare. Si, 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 loro vendono... Si, si, ci sta, ci sta. Noto che la Germania è un contributore sempre più grosso nell'ambito di... Ma poi c'è anche la Francia perché ho detto prima fra Amazon, quello che sviluppa PeerTube. Su PeerTube tenete presente il GAR che quest'anno è passato definitivamente a PeerTube, o meno per quanto riguarda il back-end, il loro interno. Non aspecchi? Il GAR sarebbe il consorzio che gestisce la rete universitaria italiana. Dalla futra ottica spenta voglio dire agli accordi internazionali, non è un'entità piccolina, tutta è la rete universitaria, la maggior parte gli istituti superiori, i musei, gli istituti di ricerca sanitaria, eccetera, si appoggiano al GAR. Quindi c'è non solo la rete più veloce in Italia ed è quella che consente appunto lo scambio di informazioni a livello europeo e mondiale. E noi che gli mantino le risorse però, sentivo oggi che stanno a meeting che loro sono cassati per la gestione interna solamente per ora, per YouTube. Cioè hanno abbandonato YouTube e lo dovrebbero usare per il reposito di video, mi sembra anche per lo streaming. E durante, stanno in una fase sperimentale di migrazione, pensavano comunque l'anno prossimo di darla poi anche in uso esterno ovviamente agli enti federati con loro. Quindi, ripeto, non che non gli manchino le risorse, sicuramente non so a livello computazionale quanto è pesante, però sicuramente non c'hanno problemi di rete, non c'hanno problemi di servire. Anzi al fatto che YouTube appunto usa il peer-to-peer per poter spostare il lavoro di banda, fa più punti, diciamo più nuovi. Sì, esatto, quello probabilmente aiuta a non creare quelli di bottiglia, però, ripeto, almeno è un'entità non piccola che ha deciso di migrare su questa piattaforma, probabilmente, vabbè loro sono chiaramente, ragionabili di ricerca per certe forze, per certi versi, almeno per come si muovono nell'evoluzione tecnologica. Quindi, diciamo, si allargano semplicemente, allargano su quello, mi aspetto che magari passano anche qualche altro servizio, provano in maniera sperimentale qualche altro servizio su questo protocollo, sicuramente. Si sa se contribuiscono anche le varie università a, diciamo, ostare poi le vere e proprie stanze. E se la cosa, sicuramente, quando decideranno di voler rendere la pubblica gli enti consorziati, sicuramente creeranno, lo ne hanno già fatto con altri servizi. Si, infatti, qua hanno disegnato un obiettivo, parecchi cose. Si, insomma, generalmente, le vere università, che sono comunque gli enti più grossi federati, danno un contributo a livello di hardware. Si, anche perché col PNRR, almeno noi della vede di così, abbiamo preso parecchio hardware. Soprattutto per macchine. Anche loro, tieni presente col PNRR, ha aumentato ancora la banda, hanno già finito, tra l'altro, su questo momento l'artificio, la banda sulle dorsali nazionali. Hanno finalmente collegato, stanno collegando alla Sardegna, anche col secondo link, c'è il progetto. La Sardegna era l'ultimo posto, l'ultima, diciamo, regione italiana isolata. Sto parlando qui lì, uno su Liguria, insomma, non a nord, non a sud, da Cagliari, per finalmente legare la Sardegna a un banda altissima occidentale, che tenete presente. Ci sono due esigenze fondamentali, una è che il Sardegna è il radiotelescopo, che è un radiotelescopio che raccoglie informazioni radio dallo spazio e non so quanti petabyte genera i dati e vanno trasportati in massima cologna. L'altro è un progetto su cui l'Italia sta spingendo molto, è l'Einstein Telescope, che è un telescopio per le onde gravitazionali, che sarà sotterraneo, un ex miniere, anche quello produrrà una mole di dati a rossa e quei dati poi dovranno essere distribuiti a livello europeo e a livello mondiale. Quindi il GAP, anche se questa cosa però è una candidatura, l'Italia non ha ancora vinto, però comunque già stanno facendo lavori, il GAP già ha un progetto appunto, l'aumento di banda delle dorsali proprio per supportare... Si sbaglio hanno fatto anche una conferenza a Cagliari qualche tempo fa? Si, a Cagliari ne hanno fatto altre Italia, ce n'è stata un'altra martedì a Roma... Tipo se non sbaglio, inizio novembre forse... Guarda, ce n'è stata una a Roma un martedì dove poi il governo ha stanziato 900 milioni di euro... Adesso... Se si muovono loro, niente di massimo di quelle cose possono fare... Ed è comunque trovato un segno positivo a prescindere di uscire poi da un'ottica di aziende monopoliste che si deve andare verso un qualcosa più comunitario... Se mi sbagli ci sono... Il Pesero Europeo che ha aperto una istanza mostro non ufficiale... E' una specie dell'Unione Europea che ha aperto una cosa da fuori... Che costruirà anche la parte... Se mi sbagli ci sono un Pesero Europeo... Scusate... Se non posso parlare... Se non volevo dire un Pesero Europeo che è un'ottima... Ma volta con la Germania... Probabilmente la Germania... Penso che la Germania deve fare una migrazione verso Europeo che è libera... E ci credo... I tedeschi hanno anche una mentalità che vogliono superare la dipendenza americana e asiatica... Quindi... Diciamo che le grandi aziende monopoliste si sono date un po' la zappa su di ultimamente... Per certe cose... Quindi hanno accelerato in determinati settori... La migrazione... Almeno il punto di capire una serie di problematiche che prima si faceva pinta di ignorare... Almeno quello... L'encertification degli ultimi tempi sta proprio... Ci sta portando in miracoli... Proprio li dobbiamo ringraziare... Cosa scusami? L'encertification degli ultimi tempi... Tipo Twitter, Reddit... Allora... Allora... Tutto ci vuol dire... Forse hai cominciato dalla meta... Sto proprio da meta... Eh... Ne abbiamo parlato... Questo processo delle encertification... Sì... Di quello che succede... Alle piattaforme social... In generale... O piattaforme... Sono delle piattaforme... Sono dei sistemi... Che... Come principale servizio... Che offrono... È quella di... Di far incontrare... La domanda... E l'offerta... Quindi... Non offrono un servizio... Pratico... Qualcuno... Ma... Fanno... Fanno da collettore... Essenzialmente... È un momento... Di business... Molto generale... E... Le piattaforme social... Lo fanno... Per mettere incontro... A una domanda... Di informazioni... Un'offerta di informazioni... Oppure... Una domanda... Di... 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 Quindi... Si mettono... Sono... 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 Da... Di... Di... Il processo di... Certificazione... E... Di... Di... Tutto... Quando... Inizia... E... Tutto... Glatto... E... Nella... Seconda... Passa... Si... Evidente... Che... Non... Sono... Di... Di... Fondamentalmente... Scopo... Di... quindi chi acquista informazioni di marketing oppure chi fa pubblicità, chi fa politica e quindi compra la visibilità di messaggi pubblici estremamente mirati e quindi chi è possibile anche la forma di quell'essaggio e questo è stato il nostro problema, è stato mostrato che è stata la base della Brexit, della prima limita dell'entrata questa è la seconda fase della certification, la terza fase, neanche i veri intenti sono più considerati tanto, perché tanto queste piattaforme diventano degli oligopoli con l'effetto rete e col fatto che sono dei silo fanno di tutto per non essere interoperabili, perché giustamente devono evitare che chi partecipa al loro business funzionano le reti e quindi chi partecipa al loro business possano ottenere lo stesso servizio da qualche altra parte, quindi evitano, vendono tranquillità a questo punto quando hanno una massa critica enorme in cui né chi ci sta sopra per comunicare o per fare così, né chi compra marketing o servizi del marketing se ne può più andare perché è il posto dove stanno tutti, bisogna esserci, se non ci stai non ti vedono, se non ci stai non sei nessuno, se non ci stai non metti in quel momento è la fase finale della certification in cui neanche i servizi per il marketing ne vogliano più senso, tutto quanto il valore che viene accumulato preso da Apple Marketing, vede quella che creano veramente contenuti che danno senso all'esistenza del servizio sono semplicemente per dire che non usate quelle che non c'è nessuna conseguenza pratica forte del fatto che qualcuno piglia e se ne va, perché sono talmente tanti, insomma, sedono sul tesoro di pigliati continuamente e quindi siamo stati fortunati, come diciamo, per esempio, con un ex-guider 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 è stato talmente tali, è stato talmente plateale e fastidioso per intere fette di impolazione mondiale che è diventato evidente ma in altri casi non sono stati così, così delicati, insomma, e se pensiamo alle suite da ufficio Microsoft quando è venuto in un'unica tra l'altro, tra l'altro, proprio parlando di Microsoft, lei è stata forse una delle prime a mettere in atto questa strategia e l'ha pagata anche abbastanza male ah, in quanto, cioè l'ha pagata male nel senso comunque, a parte si è creata una bruttissima nomea, ma comunque, cioè, non ha ottenuto l'effetto desiderato Oddio Sul browsing, sul browsing non è ottenuto l'effetto desiderato, visto che poi prima Firefox, ma poi soprattutto Google che ha usato lo stesso processo, egli è andata bene e ha fatto perdere completamente a Microsoft la guardia del brusco è una cosa difficilmente scalzabile in tutta quanta amministrazione europea e poi in tutte quante le aziende private, cioè... non solo le... è anche un po' di appi-pressione è anche un po' di appi-pressione eh, però per esempio... no, però per esempio sulle piattaforme... se parliamo di piattaforme cloud però... come piattaforme cloud però... Però c'è arrivata la posizione di monopoli dei sistemi operativi e delle applicazioni da ufficio. C'è monopoli ancora. Sieni presente, sentivo dei colleghi, che vanno per installare, proprio la notizia di questa settimana quando si cominciava a aumentare, l'installazione Snowboard di Office standalone sul Mac che viene trasformata in Office 365. Tu metti dentro, ovviamente non ci manca più di immagini, fai partire per l'installazione e ti trovi forzato su Office 365. A prescindere se ce l'hai o non ce l'hai, nel caso nostro abbiamo tutto il pacchetto unicomplizzino. Però se io decido di mettermi in un'istanza offline sul mio computer, cioè i singoli applicativi, perché tu mi devi forzare a mettere Office 365? Perché ovviamente stanno anche rinforzando tantissimo per andare sul cloud. Sì. E là penso che sia ancora, non in monopoli, ma comunque la più grande fetta del mercato della suite Office. Sicuramente. Non c'è storia ancora che nessuno. Poi l'investimento che ne ha, il pubblicano, battemi. Tipo 3-4 volte quello che ha fatto tutta l'Unione Europea sull'intelligenza artificiale. Quella ancora la dobbiamo vedere, diciamo, nel computer della casa dell'Unione Europea. Quindi già hanno detto le forze... Con Windows 12. Forse. L'hanno detto un po' tutti qua. Bisognerà vedere. Adesso c'è la corsa a chilomettere il primo con le suite di Office. Però quelle, come dire, che usiamo tutti i giorni, che usiamo tutti quanti. Inserire l'intelligenza artificiale per aiutare a salire delle versioni. Vabbè, anche per sbagliare. Hai sentito che il next cloud o gli era venuto in mente di mettere un'intelligenza artificiale per qualche cosa? Probabile. Penso che c'è già l'integrazione reale? Sicuramente c'è l'integrazione con gli API che ne hai, però credo che probabilmente vogliamo fare anche loro. La vera svolta sarà quando te la mettono e te la fanno usare. E diventerà poi quotidiana. Molta gente che non si fa la famosa domanda diventerà indispensabile. Ma già, scusami, già ChatGPT sta diventando. ChatGPT la devi conoscere, devi sapere usare, devi andare lì a posto, ma quando te la metteranno dentro Office che tu... Ah, perché è il menustart forse? Invece del Lenny forse nel menustart. Sì, a parte ha detto, come per l'autori semantici di programmazione, mentre scrivi quello suggerisce un pezzo di codice. Un pezzo di codice. Un pezzo di codice. Ah, sì, sì. Esatto. Tipo la suite ChatGPT. Sì, quando ti metteranno la cosa genere in Word, sarà la fine linea. Cioè, chi è che poi ci rinuncerà? Gentile amministratore. Ma se non vario, a proposito dell'intelligenza artificiale, c'era già qualche stato, uno stato del Brasile, uno dei stati della federazione brasiliana, che aveva già fatto un disegno di legge generato tramite un tool LLM. No, certo anche io. Forse è proprio ChatGPT o addirittura qualcos'altro. Non mi ricordo che abbia una minore. No, ho detto, ho detto in un'appropato, che l'ho detto sotto un podcast. Questo è fortissimo, cioè vuol dire, l'indirizzo di uno strumento utile di mano a moto, che ha chiesto ChatGPT di fargli inservenire il caso. E comunque in pratica ChatGPT ha fatto quel bellissimo risposta con le date del tribunale, ha detto, queste sono le date, è detto che poi ha avuto falso. E quindi ho perso una causa e poi non so, ho perso anche duolo perché ha detto il falso. Cioè, quindi, c'è tutti i strumenti di Rai, sono fortissimi. Adesso, poi ci affineranno. No, ma già per esempio ci sta, se non mi sbaglio, si chiama Science GPT, praticamente è della parte di GPT a pagamento, che invece è stato addestrato soltanto su articoli scientifici e ha dei controlli di modo che gli fa dei riferimenti a pezzi di articolo realmente presenti. Cioè, mentre normalmente questi modelli di linguaggio sono addestrati, addestrati significa, secondo me lo so, purtroppo si usano dei termini altrettamente. Questo è un problema che ci fa pensare a queste cose. Il marketing, il marketing come intelligenza, come smart contract, c'è tutta una serie di termini che hanno forte impatto su come immaginiamo le cose. Sì. Questo è uno dei problemi. Purtroppo si parla di addestramento. Però viene costruito questo momento mettendo due lingue, normalmente, che non deve ripetere tale e quale le sequenze di parole che trovo. Perché tu non vuoi che ti ripete dei pezzi, che te li monta in maniera plausibile, secondo le regole della lingua, eppure con, insomma, dei buoni accoggi sul significato che trovo. Assolutamente non c'è. Non c'è un modo per mettere significato. Non sono dei modelli simpatici. Il problema è che invece questi qua che fanno sul... Non è un problema. Questo è un problema sul modello ingegnerico. Invece quando si vuole che vengono tirati fuori dei pezzi letteralmente, Allora, questo tipo di limitazione non viene messa. E' quello che fa, ti scluda fuori i pezzi di paragrafo, che però sono quelli che ci assencano, perché le parole, la sequenza di parole in cui sono messe, corrisponde al tipo di ricerca che hai fatto. Quindi quello veramente... E ti può fare anche degli assunti che hanno abbastanza senso, proprio perché è molto più forzato a stare vicino alle frasi, letterali che ha trovato. E' stato costruito questo modello mettendo in ingresso milioni di articoli scientifici. Quindi... Quindi là dentro che non c'è proprio conoscenza, ma quella capacità di andare a pescare dei pezzi. Non fa una verità, non se l'invento. Non se l'invento. Io ho fatto la presfizio. Dovevo fare un abstract nella conferenza? Ma nel scorso? No, l'ho dovuto rifare tutto. L'ho rifatto in due approfondi e l'avete visto. Ma cazziata? Perché ho detto... Ma in quell' abstract non c'è scritto niente. Io in due minuti dovevo fare una cosa. Ma per finire l'ho provato. La prova è una... E poi... Perché tra quello... Cioè... Dov'è prevista... Ma dove c'era Google? Ma... Ma questa è una cosa che si discuterà in tutte e dei tempi. C'è un articolo che è un leak di uno scambio dei metri da dipendente Google, Apple e OpenAI che dice che appunto i modelli open source vinceremmo. Perché alla fine si raggiungeva il limiter e un modello non possa avere tutto contentamente. Quindi invece i modelli OpenAI che possono essere appunto addestrati su certi RAT specifici avranno la meglio. perché fondamentalmente io che sono un utilizzatore per esempio tipo il mio kitab copilot solo su quella core base. Adesso è il mio modello open source su quella open base che dà risultati suggerimenti migliori. La fine è stata forse... Questo scambio di me è molto interessante. Allora dicono comunque il mondo open source ci sta battendo perché alla fine la gente... E' apprezzibile. Ok, c'è il circo e il figo per... non lo so... Casual... casual... però si sono professionisti bisogna avere appunto di informazioni vere e quindi un modello open source come quello che è... la città d'Oriva è vincente appunto di da... Ciutati ci sia non si metta nulla. Quindi... C'è questo... Si inventa di meno. No, capitale. Si inventa di meno. Quello è il problema. 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 Altamente statistici e quindi esecuzione speculativa a due. E tra... Quindi non hai delle fortissime caratteristiche... Hai messo sull'esplorativa che ho dato guaitella. Sul comportamento. E' un risultato molto approssimale che funziona bene in una certa percentuale di valute. Così che... Sì, sì, sì. fatto... Il posto più buio... Cioè, il posto più buioio dover osservare... Cioè... Ma te lo faccio un posto e... putto cazzo... Non lo conosciuto. Non esiste. Non esiste. Ma non esiste. Mi ho messo il primo e i primi 5, poi mi tolto la dire. La prima, il primo e in testa a tutto... Cazzo... Ne esiste. Ma è sbagliato. E le risposta... Il risposto non è fosse vera. Cioè. Ho rinmestorchio c'è ciò... cazzo che sono paura e poi a controllare c'è c'è punte cazzate però la risposta ogni risposta ti sembra sì quello è il problema il problema è l'uso inconsapevole finché tu fai sul settore professionistico di ciò che nell'office 365 quello si accogge stai scrivendo una lettera illegale che attiva il motore illegale che tira pure per dire che è già scritto onore al merito ma se poi me la metti per dirti su facebook per tirarmi fuori le fake news cioè no anche noi andiamo a controllare magari perché abbiamo sappiamo da dove viene quella roba quindi ok non mi fico ma gente inconsapevole sicuramente direttamente particolarmente pericoloso tutto quello che generativo in questo momento è particolarmente per tanti governi stanno cercando di arginare e pure l'unica europea ci trova per esempio questa è una cosa dell'europea qui sono abbastanza contraria e fatti molti americani e riuscite con molte persone spintatori di l'america ci hanno visto in giro che a dire sono vicende in europa l'unica start up che è stata finanziata dalla francia e comunque ha lasciato un modello risultato adesso mi spinge il nome a ministra sono comandista esatto e poi dopo a zero cioè noi facciamo prima le leggi e poi iniziamo a sviluppare l'intelligenza artificiale quando in realtà diciamo ecco ogni cosa nuova bisogna prima bisogna più iniziare a sviluppare perché ci siamo a fondo politico quando ci stiamo a questo e che io stai per la situazione che cosvince cosvince molto produttività ma che ti sei questa produttività della prima che ti serve questa produttività in un'ottica è di più e non passava di altri discorsi per arrivare perché cosa pure perché c'è perché c'è perché l'economia che va meglio ci dovrebbe interessare non è certo c'è un motivo pratico qual è il motivo grande c'è soldi sono chi meglio no perché che c'è fai con i soldi direttamente stai meglio dopo avere sempre servizi per far star bene le leggi servono esattamente per evitare che chi che non si chi non si trova in situazioni tranquillissime non sia il primo ad essere affetto in maniera negativa da tutto questo gioco di produttività serve a proteggere chi non ha mai disegnati sociali e finanziari ci sta la recuperazione ma non ci sta che lo devi fare lì perché si aspetti che questi hanno il dato è troppo davvero che è diverso il Stato Unito è un paese capitalista estremo dove questo ragionamento che fa viene prima di tutto l'Europa dico io per fortuna no ha per interesse primario almeno sulla carta l'antena dei loro cittadini quindi non fa niente che non riesce a fare business su quella cosa ma evitiamo di correre arrivare invece fanno i stati e non ci riescono quasi da situazioni quindi sono d'accordo di andare a regolamentare determinati settori che possono sviluppare socialmente onerosi poi da gestire dopo non è l'approccio del Stato Unito perché se pensi almeno porti in parallelo con il danno non è l'altro non è la modo che fai un parallelo perché quando succede di danno e tu con quelli che lo sei giocato dopo dei file grazie a te che costi hai per recuperare un danno nel genere a livello social gli Stati Uniti non aspetta c'è anche il danno sociale di stare indietro con la politica Non ti credo, è che sul medio periodo l'Unione Europea ha dimostrato in più occasioni di essere avanti rispetto agli Stati Uniti che poi devono correre i pali. Vedi sulla gestione della traccia, l'uomo ha rotto le palle con il GPR, gli Stati Uniti sono dovuti andare dietro, stanno ancora cercando. Ma facevo i social, sono proprio l'esempio di qualcosa che si è regolato in tempo ed è esploso in mano. I guai di meta sono iniziati in Europa, non si chiama ancora Facebook, poi si è posto tutto il discorso, ma banalmente anche quello che è successo nel 2012 con le licenze, no? Il fatto che noi possiamo contrarre le chiavi SD di Microsoft a 12 euro, invece di dove possiamo andare sul sito official, è proprio grazie a questo discorso che si fa prima la legge e poi si fa l'innovazione. Perché altrimenti tu sei costretto a dover tenere licenze di vendute che non puoi rivendere, proprio perché non c'è una regolamentazione, l'Unione Europea è arrivata a questo. Poi c'è il discorso della geolocalizzazione dei dati che tu teni, tu azienda che investi nel mio territorio, devi tenere i dati nel mio territorio. Ma ti investi nel mio territorio, tu aziende che vendi nel mio territorio. Ma dovresti avere una regolamentazione dei dati che vuoi servire? Ma dovresti avere un'altra regolazione? E quelle aziende se le vanno a fare? Allora, però questo è diremente dopo che esi confine da suo valore. Tu non so, sarà un'altra regolazione dei dati di... Ma vabbè, sicuramente. No ma ripeto, è l'approccio che c'è. Sì sì, ma... C'è la protezione del business, in Europa c'è la protezione del cittadino, quindi sul fatto che gli americani ci deridano, per carità noi deridiamo un po', però poi... C'è il senso di cambiare il scefio, per rivedere la spingesse, non solo se non gli americani diciamo... C'è un sacco di soldi che vengono messi in progetti per la sicurezza della comunicazione? L'Europa finanzia pesantemente, cioè i progetti di Exorzone 2020 che si chiamano, c'è un milionato di euro sui prodotti di ricerca all'avanguardia, tra cui anche questi. Invece abbiamo un problemino però, visto che non sviluppiamo, usiamo software di aziende americane, non abbiamo enormi aziende che fanno ricerche e sviluppo, non abbiamo neanche i mezzi per voler partecipare in maniera efficace a questi bandi. E questo è quello che la Germania è forte, la Germania c'ha OpenSUSE, la versione di SUSE, l'azienda sonica, e fa da servizio a grasse lente anche dello Stato Unissimo. C'è la direzione che se la Germania dovesse potrebbe tranquillamente, mentre tutto il suo ecosistema basandosi sull'operazione. C'ha gli ambienti testo, il KT, c'ha la struttura cloud, il Mexico, i SISOLATI, i protocolli di comunicazione, c'ha tutto per il futuro. C'è la ricerca di uniti e privati, non esistono, non esistono, non esistono, non esistono, non esistono, quindi anche lì il fine ultimo di fare ricerca è commerciale. In Europa abbiamo il processo in vero, la ricerca è pubblica e abbiamo dei problemi nella ricaduta della ricerca del settore privato. Io ti vedo, non so l'Europa quanto è cosa sta sull'Europa, non è settore mio, non so quanto è cosa sta finanziando riguardo l'EI in Europa, ma sono sicuro che come dicono, sono vacunate di soldi sui progetti scientifici, mi sono più vicini, non so, arriveranno anche su queste cose. Il problema è che non hai una ricerca, non è che fai la base, come stai facendo business e devi monetizzare, non è che arrivi alla cosa sui mercati, dice usate chat, no, aspetti di capire, fai qualcosa di funzionante, se ti hanno finanziato devi dare dei risultati, quei risultati poi non sai nella pratica come brandizzata, almeno è un processo più lungo sicuramente, quindi le persone, i cittadini hanno un riscontro sicuramente più lento di quegli investimenti. Al contrario, è stato di dove è palese, perché si sveglia l'azienda, la fondano, hanno vacunato, raccolgono vacunato di milioni di dollari, producono risultati insieme, si te lo buttano sul mercato, va che bravi, perché hai un'evidenza immediata. In Europa lavoriamo diversamente. Talato, quella è la storia delle AI, dimostra proprio questo tipo di ragionamenti, perché si è partito negli anni 50, la prima prima vera, poi si è capito che le AI simboliche non funzionavano, inverno. Per esempio, tutti i lavoratori c'è CPT, è preso tutto da un'azienda privata americana, della rete monale di Google, cioè nel senso, ho bene, non sono, c'è uno, il mio blocco di lavoro accademico, non mi capisco di intelligenza artificiale, tecnicamente, scientificamente come funziona, però mi sembra che alla fine, cioè noi veramente siamo indietro come Unione Europea, indietro... Altidipè, su questo non sto d'accordo, ovviamente l'uno è strumentale con l'altro, cioè quel CPT ha sicuramente spinto il CD, però ti posso assicurare che ogni tanto mi capito di legge, ci sono applicazioni, che qua stiamo parlando, di elaborazioni di grosse quantità di data, ha solo parole, ma ti posso assicurare il settore della medicina, l'abbiamo visto con i vaccini del Covid, dove l'intelligenza artificiale è stata applicata a trovare la molevola più adatta su quella poi su cui sono stati fatti test e c'è, quindi ti ripeto, poi alla fine si lavora a livello professionale con quelle cose, e magari il grande pubblico che conosce certi CPT e non conosce l'intelligenza artificiale che è stata lì dalla creazione di vaccino, però sicuramente quella spinge il mercato, quindi è strumentale poi, anche per fare esperienza... Sì, non so se è il cattivo che il male, assolutamente no, è tutto, però è tutto, ma ha visto tutto l'inseguito... Sì, 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 nel senso, che dipende, perché c'è l'altro modo di appundire questa versione, però, c'erano altri effettanti, non so, non è un'opera, su quanto siamo stati sull'intelligenza ufficiale, non so, alla fine è l'unico fiorbettere, per quanto riguarda i modelli di incelazione di testo, di immagini e questi setup, comunque l'azienda privata, e comunque anche il governo francese ha investito, insomma, un uccidio artice vestito, si muove anche da genuario, quindi, nella fine è sempre l'azienda privata che sta spingendo l'innovazione, per me, in un'europea, come ente, in un pubblico, questo diritto, ma è un'attamento, quindi, vedere l'economia, 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 non so, sarà quando, effettivamente, c'è l'economia, 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 non si sa, ma gli effetti, sono veri, cioè, dal mio punto di vista, che non si conosce, può essere positivo, può essere anche un po' negativo, perché, a questo metodo, lo sapremo, si, si, esatto, 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 io ho, per esempio, esperienze di video, se non c'è, sicuramente, non c'è mai una via, esattamente, la vostra è una via esattamente sbagliata, sono filosofie di vita completamente diversa, un modello di business completamente diversa, tra gli Stati Uniti e noi, l'Europa, sono abituate, in questo modo, ti ripeto, perché guardano un attimino più in prospettive, perché non è una società completamente capitalistica, come gli Stati Uniti, per cui, la protezione del business non viene avanti alla, tra virgolette, al benessere dei cittadini, ma, in quanto, la professione è veramente prática, non è arrivare dopo, questo legge, c'è, fare, come la sanità, fare prevenzione, ormai è chiaro, lo sanno anche le viubi, costa meno che andare dopo a curare una malattia, perché si investe tanto in prevenzione, che non avessi una mente economica, perché si risparmi? No, sì, ci sono cose che c'è, anche in questo caso avremo ragione come le robe, che non può essere, 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 chi dirà che dirà? Ovviamente potrebbe valere la regola di chi fa, che non passa una volta, Cioè, in realtà non ho letto di fare una regolamentazione, che spero che non sia... Diciamo in quanto faccio, in base a tutti gli utilizzi, No, ok, ok, allora... E c'è, in base critiche... Quelle... 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 Pone una base legale, su cui poi gli stati membri possono andare, in caso in caso, a fare riferimento, cioè, cioè, ti dà... Dice, ok, si suona una regolata su Roma, so, va interpretata e va applicata sui casi. Ok. Però questo poi lo sconfiniamo nel campo dell'accelo di studenze. Cioè, loro hanno detto, ok, siamo consapevoli, ci possono essere dei problemi, facciamo un minimo, in modo da dare un appoggio, casomai si sviluppa un problema, su quello magari il legislatore può andare a intervenire in maniera più decisa. Si sono portati avanti, no? Si sa bene così, avanti. Quindi perché bisogna dire che forse nel modello capitalistico americano, le aziende pure investono tante in EA, e non solo per fornire, diciamo, il prodotto al client user, ma anche per sé e mai ha fatto con un tool che si è portato in casa, che è open AI, per esempio. Aumentare la sua possibilità di analisi dei dati, analisi dei dati nascosti, information che aumenta sulla costruzione, il valore delle proprie azioni. Questo è tutto. No, perché riesce pure che i dati che ha accumulato, magari, ora li analizzano in modo diverso, scopre dei dati nascosti, sì, ma... Business Intelli, c'è un settile, questa la fondamentalmente è tanta sola. Ma è loro modelli di vita. Ma poi loro erano già esperti, perché avevano già tutta una suite dedicata alla business sui dati, e ora magari la vera integrazione di GPT sarà proprio in quell'ambito, minimo, per riferiranno pure all'azienda a cui forniscono queste infrastrutture già da anni, magari le potenzialità... Ovviamente vai a investire sulle cose più sicure. Perciò poi tutte le aziende corrono alle AI, perché alla fine ci vedono un effettivo guadagno. che non si può fare mai e che ci avrà fatto così. Grazie. Ciao a tutti. Scusate, grazie. Grazie, grazie. Mi devo parlare... Abbiamo una risposta a Gianmarco che ha fatto questa proposta di fare entrare il da l'ultimo del terpone. A me ci stava. Allora, secondo l'ambito, come mio, potrei portare meglio per il portabile meglio del mio ha il proposto dell'antimità su dove procedere, e se procedere, se ci sono dei costi da affrontare, se ci sono individuati e propongo che ci sia caso mai un canale sul telegram dedicato a un altro diverso, sul cui possiamo continuare a provare a dare una risposta alla loro posta. Io però faccio una domanda, nell'ambito del mondo che ci hai presentato, alla fine non ho capito se c'è qualcosa di veramente sostituibile o affiancabile a telegram, perché se ho capito bene in realtà è tutto pubblico, noi abbiamo fatto telegram dei canali limitati e avvenendo all'associazione. No, ma non c'entra, perché qui stiamo parlando principalmente di social, quindi sono cose pubbliche, attività per cose pubbliche principalmente, Matrix è un protocollo completamente diverso, che supporta anche la sci-fattura. Però lì ci hanno trovato, forse qualche volta c'era un problema webline, ma... Sì, perché Matrix è un po' diciamo che... tanto a bello sì però anche un po' di problemi qua e là, tipo appunto il server principale scritto in Pareton, oppure l'applicazione che è lenta... Eh, ma l'ho detto, forse è più facile provare a pirsi una finestra social dove pubblicare notizie... Sì, appunto io per questo ho fatto questa proposta principale, quella proposta principale era quella, poi il resto che chiede più risorse, tipo PeerTube, quelle cose là, non possono essere discusse poi nel futuro. Comunque la mia proposta principale era quella del micro-blogging in generale, come appunto forma di comunicazione di noi verso gli altri, non di noi fra di noi. Io però a questo aggiungerei un fatto, ovvero esattamente come nel caso del sito, c'è qualcuno che se ne occupa, tra virgolette a tempo pieno, anche nel caso di istanza, nel ferire il resto ci sarebbe bisogno di qualcuno che se ne occupa a tempo pieno. Quindi sì, ok. No, dico sì, ok, possiamo farlo, però c'è bisogno di qualcuno, se no qua a tempo pieno. Cioè che... Con un backup pure, perché non c'è appunto una via. La logica migliore sarebbe il 321, anche nella vita reale, però... Come funziona il 321? 3 copie diverse, due... Due, no, 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 no. Ok, sono due formati diversi e uno almeno deve essere... Cioè, almeno due formati diversi, però almeno... Non due, però almeno due, è diversi. Questo è già applicato alle persone che seguono, non so, non mi hanno spuggetto. E quindi ce ne vogliono, almeno tre, di due generi diversi. E' uno che sta forte. E' uno che sta... Cioè, c'è il non-mai per gli ingiustamenti. In PS l'abbiamo... La VPS, sì, perché se non sbaglio abbiamo il sito istanziato su una VPS. Qua scica... Ma... Quanto è un figlio di questa cosa? Per esempio, io vorrei comprare il tuo workshop, però è stata rimasto così. Anche a questo sicuro... Io hanno... Di servizio, diciamo... Nel senso... C'è qualcuno che diventa il responsabile, ci mettiamo e facciamo un playstation tutti insieme, così... Io abruro questo tipo di inizio. Come installare il master. Con il prossimo... Penso... Sì... Non tra le mie cose, andiamo prima a configurare la VPS. Sì. Cioè... Prima di avere accesso... Ecco, almeno chi ci lavorerà... Si fa prima un miccolo studio, così... E quindi... Io abbraccio... E quindi... E quindi... Già, senza... Se non c'è un po' di... Quando ho detto la descrizione, diciamo, all'avvento la loro professione, che è la mia interessa, di... La proposta che sarebbe stata, ad esempio, pensavo, la proposta sarebbe stata solo, scegliamo un'istanza pubblicata e creiamo un account dove pubblicare un'agenzia dell'anno, questo è un spettacolo, invece avendo un'istanza, per me io sono contentissimo di aver sentito questa proposta, che secondo me, in particolare a cose grandi e enormi, cioè crearsi una piccola cosa come aggiungere pure la luna all'applicazione che abbiamo già visto, che sui tre casi, il trend può essere, che in ogni momento, è una funzione aria e si perdono le cose a te, su questo, scusa, poi vediamo come possiamo fare per aggiungere pure le prevalenti limiti, perché pensano come il risultato di una discussione effimera, estemporanea, così che avviene su qualsiasi canale, come succede, non sarebbe male poi fare una specie di verbale, sì, verbale è troppo formale, però di assumitore finale, di che cosa è uscito, da questa interazione, perché qualcuno ha portato a qualche pubblico, che senza impiegare qualche ragionamento, e link a informazioni per approfondimenti, e così tiriamo fuori... E questo penso pure si può integrare su queste diverse, magari un proprio massimo, visto che c'è il limite di 500 caratteri, però... c'è un po' di dividere in varie cose, dunque lì ci sono i commenti che uno può anche aggiungere, può commentare... Sì, è il nostro plot, non può dire, è il nostro plot, non può dire, questo è il nostro... Cioè il nostro plot, non può dire, questo è il nostro... Esatto, esatto, quello, quello, quello sta a fare, noi ci abbiamo già fatto, siamo sempre in un sistema per impiegare dei contenuti, ma stanno molto ricordati, quindi... Ma se qualcuno perde i contenuti all'interno di questa persona, ma non sa bene che ha un senso. Potremmo iniziare a fare il riguardo dei riunioni, come risultato delle riunioni didattiche, associative, fare un taglio di assunti, delle chiacchierate. Non molto tempo fa, se facevano, se avessi volontario di scrivere, semplicemente il prodotto. Non c'era il 3, 2, 1. No, c'era uno. C'era uno. Uno, zero, zero. C'era uno, ma se spesso un po' di più. Passi caldo, per te lo dico. Ok. Quanto? Quanto? Quanto è un'altra lira, mi sono mi suggerito, se hai letto l'intervista di un ragazzo che vi consiglio di leggere, che impugnivi su un gruppo Telegram, che appara appunto di... Perché nell'ultimo riole proprio ne abbiamo parlato quello di... Che appunto ci chiedevamo quando è che per noi non è successo, cioè quante persone devono venire per... per dire che è stato successo. Cioè nel senso ci chiedevamo di avere un impatto forte su... Su... C'è stato il ragazzo che ha fatto un'intervista su un kista che appunto ha come del sud di Lazio, vicino a Lazio, Greta. E... E' riuscito a creare un evento, per lei riuscito a portare il mio livello per i miei italiani, in questo vestito sperduto, e... Si chiamano comunque molto cordo questo... questo evento. Vabbè comunque mi sono... A lui è anche un dovere prima di uno Lug, quindi mi sono agganciato a lui, e... per fargli i complimenti, e poi... Mi hanno parlato un poco e ho detto se c'era la possibilità di fare qualcosa assieme, anche di conoscerci, giusto, Pedro, per me è Lug, e lui è disponibile a fare qualcosa assieme, quindi... Ci so come ero dalla fine del mio livello, però comunque mi consiglio di vedere quell'intervista, che ho visto molti seguiti di Doudini con noi, con King's Day, e appunto che, alla fine diceva, l'impatto alla fine è che lascia poco sotto qualcuno, da un conteggio che non è dentro, e quindi... E quindi... Appunto come dicevamo tutti i miei giorni, quindi... Quindi è interessante, sono anche lei c'era l'intervista, e vedere quanto... Quanto c'è ancora con noi con noi... Vabbè, la prima volta che sono... Non so se... Beh... Per esempio... Sì, 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 ma io sono... Sono soddisfatto, mi ha lasciato qualcosa, sia alla presentazione, sia anche alla discussione, poi... No, vabbè, quindi... Quindi qui sì, cioè... C'è nel senso se... C'è in mezzo di fare una cosa con l'oro... Non lo so... Non lo so, vogliamo... Vogliamo organizzare la nostra... Sostrutturata questa lista di cose che si possono fare, perché questa è la prima fase, per raccogliere le... E poi c'è un... Un volontario più di uno, possibilmente, che... Che dedica del tempo e delle voce a portare davanti, quindi... Si potrebbe portare le cose facili, forse con un lavoro più facile, il plugin Wordpress, e quando si pubblica, va in automatico, se il progetto bene... Sì, si potrebbe cominciare con un accanto su... E lo facciamo... E lì, cominciamo a costare... Cioè, intanto il fatto... Il plugin Wordpress, installato il plugin, è fatto l'accanto all'ordine automatico... Quindi automaticamente, quando si pubblica anche l'articolo della riunione, è automaticamente da lì, quindi... Forse questa è la cosa veramente più facile... Cioè, il plugin HTTP Wordpress funziona come un server HTTP a base, quindi... Cioè, comunque... Di associato il dominio del NAB. Ah, ok. Poi dovremmo portare su una nostra istanza questo? Non lo so, perché non so nello specifico come funziona, però penso che comunque... Poi non so se può magari guardare in conflitto quel dominio, non lo so. Se è un sottodominio? Se è un sottodominio... Perché quello si può fare, magari che... Sul server massimo, non gli associato il dominio, senza il sottodominio, per farlo più benissimo, per dire, però... Se proprio non si può conto, si può fare il sottodominio. Insomma, che non so se quello va in conflitto con il plugin di Wordpress. Sì, ok. Il plugin di Wordpress funziona con il testo abbastanza. Perché stanno... Se facciamo... Il plugin di Wordpress funziona come... Come stanza HTTP? Quella... Eh, ma no, forse. Cioè, non è tipo... Il plugin per telegare... No, però... Non potremmo mettere solo il plugin sul sottodominio. Posso solamente... E non lo so, la cellula. Ma non credo che sia senza... Credo che faccio solo il post. Voglio vedere... Ma non credo che sia così. Beh, perché se fa così, praticamente risulterebbe... C'è proprio... 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 Il plugin di Wordpress... È proprio... Non abbiamo... Un plugin di Wordpress... Non so se poi si può accedere... Che può stare... Ma adesso... Quale avevo? Cioè, li posto come... Questo è la cosa di... Ah, solo è stato troppato un altro. Ma secondo me anche... Qua c'è una cosa che... Deci usare... Aminente... Facer i Wordpress... Qualche' il modo... Cioè, questo è il nome... Vi sa... Del feed Wordpress... Sì... Ah, scusa... Ecco... Quello dovrebbe essere... L'utente sul dominio... Sul... Sul server master... Credo... Non sul server... Al fear... Algo... Algo... Sotto... Sotto dice... perchè quelli sui autocorriere che ci trattano su Wordpress i profili su Wordpress io credo che questo sia il mio collega quindi in attacco con l'autore quindi la faccia io lo posso chiedere e l'autore penso che è inzienda sia automatico quindi Massimo posso contattare su una certa aziendale quindi se abbiamo domande penso che non posso succedere a contatto dovrebbe starci credo perché se è così praticamente da dentro Mastro l'indirizzo con cui pubblichiamo questo sarebbe chiocciola.tec quindi sarebbe come se ci fosse un server e se funzionerà se funzionerà questo succede come client anche come gli altri funziona come server quindi non come client non si prende non lo possiamo usare per leggere altra volta client nel senso che distanza semplicemente pubblicano non è il tuo suo accanto esattamente non si parla di Mastro di Mastro secondo me secondo me secondo me l'indirizzo l'indirizzo questa esce ma questa esce fuori come cioè segue seguì si 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 asi si 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 esce mi quindi automaticamente diffonderemo oppure ogni volta questa possibilità avrei in generale in generale comunque fare una boccia solo che creare un'istanza mastone oppure su una virtual machine locale può essere interessante una cosa